Siamo finalmente in una fase che appare essere diversa da quella dei mesi precedenti. Dobbiamo tenere ancora i piedi per terra e avere ancora massima prudenza, ma per la prima volta dopo molte settimane guardiamo con maggiore fiducia a numeri che stanno finalmente migliorando nella lotta al Covid. Certo i casi sono ancora altissimi e dobbiamo per questo mantenere un livello di attenzione, di cautela come sempre abbiamo fatto in queste settimane, ma è anche vero che grazie ai vaccini e grazie ai comportamenti corretti delle persone siamo in condizioni finalmente di registrare un abbassamento del numero dei contagi e soprattutto una stabilizzazione, in alcuni casi addirittura una riduzione delle ospedalizzazioni.